buongiorno a tutti anche quest'oggi andiamo a chiudere l'ultima posizione della giornata siamo in profitto di più di 1300 euro vediamo se ora il prezzo continuerà a salire oppure chiudiamo prima attendiamo ancora giusto qualche attimo chiaramente questo è fatto con le metodologie volumaster in intraday tutto ciò si può fare anche multi day ora andiamo a chiudere a breve ecco qua chiudiamo sono 1330 euro di profit che sicuramente è un risultato sicuramente interessante qui andiamo a vedere il risultato della giornata oggi è l'8 sono 880 euro qui è stato fatto un loss comunque è un risultato non quanto i nostri standard soliti ma comunque un buon risultato considerando che è possibile farlo ogni singolo giorno in più mercati e questa è la potenza di volumaster quindi sfrutta le vacanze estive per studiare per iniziare un percorso di questo tipo e se ti applicherai ti porterà delle grandi soddisfazioni soprattutto perché ha una garanzia e lo puoi pagare a rate ti aspetto qui sotto trovi la mail per lasciare i tuoi dati e essere contattato ci sentiamo nei prossimi giorni a presto